Il suo paese Faustino Aspriglia, tifoso della Juve di Del Piero e la voglia di segnare tanti gol, quanti ne fa Ibrahimovic. La devozione per la preghiera è la fedele compagna di ogni giorno, nel suo paese di adozione Stella Cilento. I circa 800 abitanti lo adorano, per tutti è una vera stella, l'unico in grado di tenere unito il suo gregge, che lo segue con partecipazione nelle opere di portavoce del Signore e anche durante gli allenamenti, aiutandolo a fare gol. Chiedo a questo numero 13 di segnare tredici gol al più presto, è il numero 13 che nella Chiesa viene nominato come il numero del peccato, invece per me il 13 è il numero della gioia e del trionfo della grande Stella Cilento. Predicare amore e sentimenti non è facile per chi a soli due anni è stato strappato agli affetti dei suoi genitori, scomparsi troppo presto per via della guerra. Adottato e trapiantato a Stella Cilento, laddove le sue preghiere e i suoi studi gli serviranno per realizzare il suo sogno. Per andare all'Africa dove c'è gente più bisognosa che ha bisogno del medico delle anime, ma anche del medico dei corpi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Voglio... Grazie a tutti.